A preso il via presso la nuova sede del Centro Europe Direct di Napoli, in via egizia che a Pizzo Falcone, il corso base di lingua inglese è organizzato dall'ASMEFORM, un'opportunità per avvicinarsi alla conoscenza della lingua inglese e delle sue nozioni basilari, offerta dal Comune attraverso la pubblicazione di un bando, per il quale sono pervenute centinaia di richieste. Solo i primi 40 ad aver fatto domanda da oggi siederanno in aula per partecipare alle lezioni. Sono 5 gli incontri programmati ed è previsto il rilascio di un attestato per coloro che ne avranno seguiti almeno 4. Andiamo all'inizio al corso di inglese gratuito a livello base, qui potranno partecipare 40 cittadini, 40 persone che hanno fatto la domanda nei termini stabiliti. Abbiamo avuto in realtà un numero elevato di domande, oltre 300, ma purtroppo il corso è a numero chiuso, quindi per il momento riusciamo a soddisfare questa richiesta. Siamo molto contenti del fatto che questo progetto sia stato accolto così positivamente dalla cittadinanza. Il centro, gestito dal servizio Cooperazione Decentrata, Legalità e Pace del Comune, è cofinanziato dalla Commissione Europea e nasce per interagire con i cittadini ed avvicinarli all'Unione Europea organizzando eventi, attività ed iniziative culturali. Noi organizziamo qui molti corsi gratuiti per i cittadini. Questo di inglese è il secondo per quanto riguarda quest'anno, perché il primo è stato fatto sull'europrogettazione ed è stato un grande successo. Adesso c'è questo di inglese e poi seguirà invece il corso di italiano per stranieri. E' un esempio veramente molto positivo di collaborazione tra enti, perché lo Europe Direct è un ufficio della Commissione Europea qui a Napoli, quindi possiamo scoprire qui il volto di un'Europa che in realtà dà possibilità, dà delle esperienze curriculari importanti che possono consentire a un giovane, ma anche a dei professionisti, di ampliare la propria operatività professionale.